Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Chris Magic 22 Allora ragazzi, oggi siamo qui in un nuovissimo video di Chris & Lill Davide Davide, vuoi spiegare tu oggi cosa faremo? Spiegale No, sì, non c'è la connessione Allora, oggi, 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 praticamente, Gabbo, sei tornato Che facciamo oggi Davide? Sì, diretto Che succede? Davide? Ma tu non ci sei al giorno? No, devi raccontare prima Allora, praticamente, praticamente, in questo video noi faremo una challenge Che saremo contro Chi vince questo parkour? Un certo Rolex Cioè, quindi raga Se vini, chi arriva per primo vince un Rolex Davide Però basta, quanti soldi sto spendendo? E' l'iPhone E' la Playstation E ora vuoi pure Rolex Vabbè ragazzi, allora io direi di subito entrare e disattivare la fotocamera E andiamo No, perché se non sta fotocamera Fuggi dall'acquario Ma tu già sei dentro? Sì, già l'ho dentro Allora, tra l'ho dentro da te Ok, fuggi dall'acquario hobby Se chi lo finisce vuoi prima si aggiudica un Rolex Un bel Rolex Ciao Christian Quindi 3 2 1 E via Ok Oddio zio No zio No 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 Che cazzo è? Che cazzo è? Oddio No No Mary Knight Ma che cazzo è? No 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 E' godo Godo io Io go Godo io Godo Godo io No io non sto zitto Godo Salta Oddio La prima volta che supero a Davide Ma che dici? No 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 Impossibile Dai ma quando? Dai vai qua Dai muoviti 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 Uuuu Vai Ma vai raga No 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 Attenzione, attenzione, che è Cristian Vai Vai qua, madò, raga Madò, l'ho superato, per me, l'ho superato Corri Dove devo andare? Guarda questo Sì, raga Sì Porca miseria No, no, ora viene, ora viene Vai, salta No, no però No però, no Salta 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 Vai qua, vai qua Davide Ti ammazzo Gioco di me, da No No, no, no No, muoviti No Ma com'hai fatto? Ma che cosa, cazzo? Ma com'hai fatto a superarmi? Ma che stai a dir? Ma che cacchio stai a dir? Sì No, no, vai No Sì Salta 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 Oddio Ma guarda vai Salta Ma che ti supero? Che sono un nabbone Mi sembra Godo Roblox Grazie Godo 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 Oh Egli Sì 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 No Madonna Questo mi fa perdere tempo Ma Ma Regà Io sono morta E mi ha fatto Teletrasportare Ma Cosa c'è 12 Sì 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 Vai Sì Sì Ma c'è un po' Oh no C'è un po' di nuovo Vai qua Vai qua Vai qua Vai qua No zì Era un vicolo cieco Vai qua No distinto No 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 Sì No 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 Non lo accetto Io Ma Che Sarò Ma Dove Cazzo Si va Ma Dai Ma Dai Raga Dove Cazzo Si va Cazzo Cazzo Dove Si va Qua Ma Guarda Quello Grazie Cristo Mi Sto Aspettando No 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 Sì 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 Godo come Godo come un riccio Appena nato Da due ore e mezzo Sì Regà qua abbiamo un vincitore Magari Ma che cacchio Stai a dire Dai salta Salta Non mi far morire Non mi far morire ora Ok Vai 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 Muoviti Dove devo andare No Non devo toccare i pacchi Non devo toccare i pacchi Sì 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 No 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 Che filippo Che filippo No Che birichino Che devo fare È l'ultima parte No Godo Oh sì Magari Lì qua È l'ultima parte No 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 È sempre La stessa No 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 Cosa Dopo lei Vuoi anche il Rolex Che fenomeno Cerca Stavo un tratto Così di nuovo No Uomini C'è tu Sei il primo Vantaggio di un voto Alcune volte Ma io ti ho fatto Una superata No 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 Vabbè ragazzi Allora direi che per questa volta è tutto E mandare io Adesso vado alla posta A mandare il pacco a Davide Quindi ragazzi Vado a mandare io Il Rolex a Davide Ragazzi io direi che per questa volta è tutto È da ChrisMagic Quindi tu eh E Davide un saluto Al prossimo video Ciao Ciao Ciao